Tutti fermi e quasi. Questa settimana per la filiera siderurgica è stata caratterizzata ancora una volta da un decreto. Questa volta il decreto, ribattezzato Chi d'Italia, varato il 22 marzo, in cui il governo, a fronte di dati ancora allarmanti sui contagi, ha deciso per una serrata generale di tutte le imprese, ad eccezione di quelle legate alle filiere strategiche di questo periodo, vale a dire il biomedicale e l'alimentare. Una scelta quindi che ha avuto un impatto molto pesante per la filiera siderurgica, che ha portato a interrompere le attività di quasi tutte le aziende, con solo tre eccezioni, tutte legate ai prodotti piani, vale a dire l'ILVA, in quanto impianto a ciclo continuo e quindi che non poteva interrompere l'attività senza rovinare gli impianti, ARVEDI, sia a ciclo continuo ma anche un fornitore strategico per le industrie delle filiere ritenute essenziali, così come Marcegaglia. Tutte le realtà resteranno in produzione ma comunque a livelli sostanzialmente ridotti. Per il resto la filiera quindi è tutto fermo fino al 3 aprile, anche se già adesso le imprese chiedono a gran voce alle istituzioni e al resto del sistema paese di avere delle risorse e delle idee per poter sostenere la ripartenza.